L'Alba Verde rispetta il pronostico di vittoria contro il fanalino di Coda Planet e ritorna da Pedara con la vittoria in tasca per 3-7-0. La formazione nissena si gode il ritorno al successo in trasferta dopo un'anomala astinenza e continua a tenere il passo delle prime della classe Zafferano e Pallavuolo Crotone. Dopo un primo set dominato è seguito un secondo parziale in cui le nissene hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco. Il terzo set sembrava inizialmente svolgersi sulla falsa riga dei precedenti ma la formazione catanese ha tenuto testa alle pallavoliste nissene che alla fine hanno portato a casa il terzo e ultimo set e l'intera posta in palio. Appuntamento adesso a sabato 25 febbraio quando al pala Cannizzaro l'Alba Verde incontrerà la gioiosa. Volley serie B2 girone M sedicesima giornata. Fidelis Torretta gioiosa 3 a 1. Procoriericina Zafferana 1 a 3. Stefanese Ardenscomiso 3 a 2. Planet Albaverde 0 a 3. Bricositi Cuscatania 2 a 3. Volley region Pallavuolo Crotone 0 a 3. Saragena Funivia Etna 3 a 1. La classifica. Zafferana 41. Pallavuolo Crotone 38. Albaverde 37. Fidelis Torretta 34. Procori Ericina 33. Gioiosa 30. Cuscatania 27. Saragena 25. Volley region 21. Funivia Etna 18. Bricositi 13. Stefanese 8. Ardenscomiso 7. Q The Planet 4.